Si vede ogni giorno Napoli è invasa dai turisti e quindi riaprire il cimitero delle Fontanelle significa offrire ai cittadini napoletani ma anche ai turisti uno spettacolare e fantastico sito che fino adesso purtroppo è rimasto chiuso per alcune problematiche che sono state approfondite e quindi adesso però la situazione si sbloccherà perché l'amministrazione ha deciso di avviare sia i lavori di riqualificazione del sito e sia di prevedere l'avvio di un percorso per la gestione del sito stesso. Dopo la verifica delle condizioni di sicurezza, stabilità e stato di conservazione l'Aggiunta Comunale ha avviato un programma di apertura, valorizzazione e promozione del cimitero delle Fontanelle. Si comincerà con la messa in sicurezza idrogeologica e le attività edili e impiantistiche necessarie per renderlo fruibile a cittadini e turisti. Previsto anche il coinvolgimento attivo di cittadini ed attori culturali del territorio per far rivivere un luogo tra i più iconici del patrimonio culturale della città molto attrattivo e assai richiesto fra le tappe turistiche. I prossimi passi saranno quelli di prevedere un avviso pubblico con i quali chi è aperto a chi riterrà di essere in grado di gestire questo sito secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comune e poi io credo che a tempi brevi probabilmente vuol dire primavera del 2023. Una volta individuato il gestore che dovrà completare i lavori e fornire tutta una serie di servizi, il sito potrà essere riaperto al pubblico.